La Multiservice di Andria presenta gli obiettivi di gestione dei servizi cimiteriali dal 1 giugno tra le mansioni dell'impresa federiciana, restituire il decoro urbano all'interno della struttura nel rispetto dei defunti e dell'intera comunità, ma anche monitorare l'igiene e la raccolta differenziata per garantire l'efficienza degli operatori commerciali nell'area circostante. Vogliamo ricreare delle regole all'interno anche del cimitero che sia rivolta anche all'utenza e migliorare anche i servizi che vengono svolte. Da subito, nelle prossime settimane, per esempio avremo già la raccolta differenziata che verrà effettuata all'interno del cimitero, quindi stiamo per collocare i vari contenitori per le varie frazioni, proprio perché debba anche essere quello un luogo in cui determinati tipi di messaggi vengono anche sostenuti e portati all'interno del cimitero. Stiamo cercando chiaramente di innanzitutto migliorare il servizio e con i confronti di questi operatori professionali, perché è giusto che oltre l'utenza noi vogliamo tenere un occhio e anche una interlocuzione particolare con questi enti. L'amministrazione comunale andriese fornisce la sua collaborazione alla multiservice attraverso il decoro e la gestione efficiente dei servizi cimiteriali. Si eleva l'intera comunità cittadina. È una gestione interna del cimitero stesso, motivo per cui abbiamo politicamente scelto di affidare i servizi cimiteriali alla nostra municipalizzata, mettendo a frutto anche quelli che sono i risultati raggiunti con altri tipi di servizi che nel frattempo sono stati affidati. Penso ai Parcometri, penso all'ufficio Tributi e altri ancora. La percezione del rispetto dei defunti diventa anche una percezione di civiltà della comunità.